Siamo qui sul luogo dell'emergenza con il sindaco di Pove. Sindaco, ci faccia un breve quadro della situazione aggiornata a questo momento. Dopo la bomba d'acqua di questa notte, quindi tutti i torrentini che improvvisamente si sono formati in montagna per poi riversarsi nelle case e nelle strade del paese, al momento non piove e tutte le squadre sono a lavoro per cercare di tamponare l'emergenza, anche se i danni sono veramente grossi. Ecco, qui abbiamo visto la situazione, abbiamo raccolto le testimonianze qua in centro, ma zona di montagna, insomma spostandoci da qui, qual è la realtà? La realtà è che abbiamo praticamente detriti di tutti i tipi che vengono giù dalle montagne e dalle valli e che si sono riversati soprattutto nella parte nord-est del paese, quindi quella sotto alla montagna e hanno chiuso le strade, hanno bloccato le strade e hanno riempito le cantine e le taverne. So che è partito un appello a volontari e persone che con Badile e con Pale vogliono e sono chiamate a dare una mano per far rientrare l'allarme e rimettere in sicurezza il manto stradale. Come hanno risposto? Sì, ci siamo mossi in due modi, con due canali. Uno è quello ufficiale, quindi protezione civile nostra, di Pove del Grappa, protezione civile provinciale e regionale che hanno attivato il COM, quindi sono loro al momento la regia. Parallelamente abbiamo chiesto aiuto a tutti quelli che avessero guanti, Badile e stivali per riuscire ad arginare questo che io ritengo un disastro, che non ho mai visto nulla di simile. È memoria d'uomo, non si era mai ricordato. Ecco, è difficile adesso perché siamo ancora in piena emergenza, ma una stima approssimativa dei danni, quanto caos, quanti danni ha creato questa bomba d'acqua e questo fiume di fango? A livello economico non ho assolutamente un'idea perché mi stanno arrivando telefonate da case ancora allagate che non sapevamo fossero in queste situazioni, quindi man mano stiamo aggiornando, però sono parecchio alti perché oltre ad avere intasato con delle tizze le strade, quindi dopo aver sperando velocemente ripulito le strade, ora i danni sono le macchine nei garage, tutte le taverne legate, tutte le cantine, quindi non abbiamo assolutamente un'idea di danni che però sono sicuramente tanti.